Un caro saluto a tutti e benvenuti, Milano-San Siro, Milan-Empoli, notte di marzo, notte di 50.000 milanisti a San Siro per questo match che arriva dopo la vittoria di Napoli, che arriva alla 29esima giornata di campionato Florenzi guadagna un tempo di gioco e serve Leao, Leao ha il duello da fare con Fiamozzi se ne va Leao, dentro per Flore, colpo di tacco, che sì, che sì, Florenzi, la parata di Vicario qui bellissima azione nostra devia la barriera Calulu gol! Ha segnato, ha segnato Pierino! Il gol di Pierino! Pierino, il primo della classe! Pierino! la piazzata di giustezza, rasoterra bella, precisa, il primo della classe! Pierino Calulu, 1-0 per noi! Junior, il cross, deviazione, altra deviazione, era di rigore, Giroud, deviazione, Leao, colpo di tacco, Flore, il tiro fuori! bella azione nostra, bella azione nostra! Davide, la mette in mezzo, bel cross, colpo di testa, di Giroud, la parata di Vicario, grande occasione nostra! Giroud, il tiro deviato, attenzione, che sì, ancora poteva far gol, che sì, angolo! terra, Simone, Romagnoli, insiste Lempoli che mette in mezzo questa palla e la grande parata di Mignon la grande parata di Mignon sul colpo di testa di Luperto e Mignon va a salvare sulla linea colpo di testa, via la palla ragazzi e poi Mignon para due spaventi gran calcio d'angolo a rientrare alla Chiarugi o alla Mortensen, se preferite, di Bairami vediamo cala per Junior Messias Junior Messias può puntare Junior Messias, Junior Messias si accentra, il tiro di Junior alla parata di Vicario bravo Junior Messias può puntare Messias, 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 Messias Messias, tiro a giro parata di Vicario parata di Vicario ecco la palla lunga di Vicario va al balzo di testa Calolo ancora è finita abbiamo vinto abbiamo vinto noi c'è una notizia da Milano San Siro abbiamo vinto noi ciao a tutti 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 ciao a tutti